These men don't like me and they know we're back in the sandyshore, so... No, non è questo che dovevi fare, qu... Non vi saluto, invece! Non vi saluto! E niente, inseguiamo i fratelli O'Neal. Questa missione è cascata dal nulla. Stiamo andando a salvare, ho sbucciato a Franklin, ed è successo questo. I fratelli O'Neal. Ok, dovrei usare l'abilità qui, eh. Sennò, se tipo, si finisce di sotto è la fine. Devo prendere Michael, vedi? Oh, in realtà anche no, vabbè. Godo! Ovviamente è morto solo il conducente, no, neanche. Un mirino termico. Andiamo a controllare l'auto e tipo, dovremmo prendere anche Chop, credo. Trevor, man, shit, you there? There's a deer in a row, man, these motherfuckers crashed out. They crashed. They dead? No, they gone. They ran into the fucking woods, man. I need air support like right fucking now. Niente, ispezione della macchia. Però le missioni, tutte e tre insieme, sono tipo superadrenalini, che le adoro. No, non è questo che dovevi fare, coglione. Non era questo? Vieni, Michael. Anche qua, colorazione top. No, vabbè, colori sono stati rivisitati molto bene. C'era un deal. Un contracto per finire tutte le contracti. Serious multinazionali. Sono così vicino! E' stato così vicino! E' loro stavolto di me. Oh, hold on. Se si stavolto di vostra negozio, perché vogliono te stavolto di? Ah, cosa con tutte le domande? Non solo prendere la mia parte per una volta? Yeah, I'm coming along for the ride, ain't I? Yeah, ma io senti che il tuo cuore non è in. Yeah, I'm lucky che il cuore non è in un pie. on your kitchen table. Always with the quimps! You're such a depressing cynic. Oh, poor Trevor. I'm sorry I'm a human being with thoughts and feelings and emotions. Wait a second. I remember this chopper. We used this to break into the IAA building. You stole it from the FIB? Not so. Ops. I took it in lieu of payment. Hey, hey. We're here on the ground. Them hig dudes ain't a woman. Bagger, Trevor, si è un bugger. That model is fitted with a thermal scope. Okay. Trovarli. Check the river. They might be trying to float out of here. Okay, qua c'è uno. I got him. That guy wasn't moving fast enough. Uno. We ain't found him yet. Cervi, cervi. 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 Due? No. Boh. Fuori. Oh no. Merda. Ma l'ho fatta sapere che era lui. Però ci pensa. Chop. Dai, nuota. 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 tre. Non credo di averli fatti fuori. Magari mi sbaglio, eh. Non andare da altri cani, please. Ecco. Mi taglietta. Fuori gioco. E mi sa che invece scendete in un altro modo Invece è mezzo rotto Invece no Buono, 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 buono Ecco qua Manovra delicatissima Potrei fallire qui No, forse no No, è più là, che palle Dai, fate due passi Che coglioni Ok Dai Dai, il peggio è andato Adesso c'è solo il viaggio di ritorno So, how are you doing? Well, we're alive Hey, good work down there I'm the one who says thank you He was helping me Thank you, Franklin Yeah, it's cool, homie And thank you, Chop Hey, are you gonna tell us exactly what we were helping with? I know you said these guys stole some business But that doesn't really explain why they wanted you dead Oh, didn't I say what happened after they stole the contract? Nope, you didn't Oh, I went to their farm and I killed a lot of them and then I blew it up Killed a lot of them? Yes I think that was Elwood, Walton and Wynne who we killed just then I killed Ernie, Earl, Dale, Doyle, Daryl, Dalton, Donner And a few other guys when I blew up the farm So, maybe this is kind of revenge thing I don't know Let's not forget that I'm the wrong party here Now, cheese due via, dai Definitely the wrong party Hopefully show A terra, a terra, co***o, a terra, dai Qui, però Preciso Don't feel good, huh? Helping a friend in need? Come on, Chao Come on Oh, yeah Take it out some hillbilly crankfielders on the blood view That's what I'll leave for Hey, Trev, man We're gonna borrow this and head back to town Sure Come on, Michael, man I drop your ass off on the way back Chao Get in See you back in Castle Phillips, Mike Yeah, thanks for the warning Che missione era questa? Predator 63% Fantastico Chiedo di una della neanche mese scaletta Va bene, ragazzi Vado all'appartamento Salvo Ovviamente Perché sennò poi Tocca rifar tutto da capo E non ho voglia Be honest Non ho voglia Trevor Marsh E con questo, raga, vi saluto Lasciate il like al video Iscrivetevi al canale Noi ci vediamo per la prossima missione Prepareremo il colpo a paleto Grazie Anche del supporto Da Andrea è tutto Alla prossima